Circa tre ore tra interrogatorio e contro interrogatorio per Giovanni Minetti, presidente del Collegio dei Sindaci Revisori di Coingas, la nomina nel 2017. Nell'udienza di questa mattina è stato ricostruito quanto rilevato dal Collegio e la difficoltà da parte dei sindaci revisori di entrare in possesso dei documenti che giustificassero le consulenze finite al centro dell'inchiesta, che in queste settimane vede sul banco degli imputati anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Il dottor Minetti ha evidenzato l'attività che il Collegio dei Revisori ha fatto, quindi la convinzione loro che le operazioni non fossero tutte così chiare e così documentate da consentire al Collegio di svolgere serenamente il suo compito e quindi nella loro serietà di controllo hanno evidenziato queste incertezze. Il presidente Giovanni Minetti e due sindaci revisori Fabielo Polverini e Giuliano Faralli furono i primi a constatare che qualcosa non andava nel bilancio della partecipata. I loro dubbi riguardavano proprio le consulenze e il ritardo con cui i documenti richiesti vennero forniti. Abbiamo segnalato un'anomalia di un iter formativo sulla nostra attività di vicinanza e controllo che ci ha portato ovviamente a sollevare delle questioni che sono state poi riportate nei nostri verbali e quando la magistratura inquirente ha avviato le indagini sono state chiaramente oggetto di approfondimento. Diciamo che noi più volte, come risulta dai verbali, avevamo sollecitato la consegna di documenti o di certi atti che non sono mai pervenuti nei tempi richiesti. Diversa la lettura delle testimonianze da parte delle difese. Il mio assistito ritiene che a lui è stata richiesta con grande ritardo e quando è stata richiesta lui ha provveduto, e i documenti lo confortano, a produrla. Coingas alla fine del 2018 era l'amministratore perché non c'era più neanche la dipendente a partire dal 2 gennaio del 2019. Quindi chiedere le correzze a Coingas significava chiederle all'amministratore. Non c'era altro soggetto. Ecco perché c'è questo gap nella consegna dei documenti. Emerge un quadro, soprattutto, come ha confermato il dottor Minetti, che l'avvocato Livetti ha collaborato e si è attivato, ha vissuto intensamente la vita di Coingas, in particolar modo soprattutto per quanto riguarda tutta la parte relativa alla votazione di estra, ai patti parasociali. C'è un'attività estremamente rilevante, l'ha detto, ripeto, questo test, che è importante appunto per confermare la serietà e l'attività svolta dall'avvocato Livetti.